Era molto importante oggi guadagnare questi tre punti e chiudere soprattutto nel più breve tempo possibile per la nostra classifica di Champions. Siamo state brave perché comunque loro hanno mostrato di aver giocato bene alcune partite contro il practice e contro la luce, quindi era importante aggredire fin da subito. Siamo state brave a partire belle concentrate, a rimanere profondamente alla fine della partita e a portare a casa il risultato.